salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura veniamo dall'episodio scorso in cui abbiamo incontrato addirittura cappuccetto rosso ci ha fatto una piccola quest e abbiamo anche dato una svolta un po al nostro nostro villaggio perché abbiamo messo le strade questi di livello un pochettino più superiore in modo da velocizzare anche i spostamenti da parte dei nostri paesani e quindi insomma piano piano iniziamo ad espanderci abbiamo sempre la possibilità di piazzarci i condomini per avere diciamo cittadini di un livello più alto però ancora non l'ho posizionato e devo capire bene come poter strutturare il tutto allora continuiamo tolgo la pausa e vediamo un attimino qui siamo ancora in attesa di completamento l'industria questa della lavorazione della della pietra poi ne abbiamo un'altra se non ricordo male qui ancora in attesa infatti sta ancora aspettando insomma i materiali mancano ancora 20 assi prima di del del completamento quindi aspettiamo che che facciano tutto magari allora ci sono due visitatori si li accettiamo che perché comunque qua di case dovremmo essere a posto qua però manca dell'acqua mi sa che questo qui infatti è proprio molto borderline ne facciamo un altro così stiamo a posto e acqua ma possiamo mettere un pozzo cittadino adesso però che necessita di parte le assi di questi dei mattoni di pietra che mi sa che ancora non mi ricordo se li possiamo già fare oppure oppure no devo controllarla un attimo sta cosa poi c'è qualche la fognatura finisce lo smaltimento di liquame dalle case cittadine nell'aria come funziona ah va proprio messa messo proprio il tombino insomma volendo potrei metterlo anche lungo la strada in modo da poter prendere più di un blocco di case ok questo andrà fatto perché comunque ci aiuta penso non sì non c'è da bonus però sicuramente aiuta ecco quindi ci servirà allora intanto mettiamo il pozzo così possono prendere l'acqua allora qua volendo un'altra casa ci potrebbe pure entrare quindi magari lo mettiamo vorrei mettere in modo che posso prendere magari oltre e non piazzarlo qua che metà va a finire nell'acqua quindi si perde un pochettino però se lo metto qua lì per poco non ci arriva dovrei metterlo tipo qua anzi no allora un attimo se metto eventualmente un'altra strada qui ok un'altra casa volendo potrei metterle qui un po' come ho fatto con quest'altra e ce ne entrerebbe una sola perché poi qua non c'è più spazi ok sì ma poi non posso farci beh potrei metterla così un po' particolare come forma però perlomeno tanto qua nell'angoletto che vuoi che ci vado a mettere oppure aspettate esce dalla modifica vediamo se riesco a metterla che deve essere forza lunga cosa ma non più piazza prima ma la facevi ma così se devo forza metterla così che va beh la mettiamo così che esce dai quindi mettendo le case lì noi possiamo metterci questo pozzo qua così prendere le nuove quella che manca e eventualmente qualcos'altro che costruiamo qua in basso prolungando la strada anzi lo faccio pure adesso così siamo un attimo qui non l'ho fatta poi la strada un attimo più tranquilli la faccio pure qua così facciamo che taglia fino a giù ok gli alberi in automatico vengono abbattuti e anche se qui poi devo capire metterci in questo spazietto così piccolo perché qui alla fine lo spazio lo avevamo lasciato un po' più grande altrimenti devo fare dovrei togliere aspettate dovrei togliere questa strada e questa teniamo questa principale questa che corre fino giù oh capitolo due un dolce incontro che succede che succede benvenuto al mio ricco regno spero che le tue intenzioni siano onorevoli ok è un piacere conoscerti per favore accetta questo regalo come segno della mia amicizia dona 30 ortaggi effetto molto positivo sulla relazione incontriamoci non vedo l'ora di conoscerti di apprendere di più sul regno ok ma che avevamo mandato dei messaggeri ma come ricordo salutiamo dai ogni reame un sovrano con la propria personalità missioni e ricompense per di più sul sovrano clicca sul pulsante delle informazioni ok a una relazione con ogni sovrano che viene influenzata le tue interazioni alcune interazioni richiedono un determinato livello di relazione ad esempio per iniziare a corteggiare e prima essere amici ok quindi difficoltà facile la queen incantevole di fablidum e la principessa del raccolto stessa concentrata sulla ricchezza della terra e sulla felicità del suo popolo agnes dà valore a campi e fiori sani doni corteggiamento fattoria di fiori cultura dei tulipani gida delle accolte e corona di alloro va bene va bene quindi lei tecnicamente di chi è ah è questa noi stiamo qua ok mi sa che abbiamo mandato i messaggeri ecco perché infatti è arrivato anche lui ma che lo stavo guardando mi ricordo che l'avevamo inviato infatti è deciso di incontrare un altro dominio con per una lirica per calendario per celebrarlo se cazzo dico calendario allora è un piacere conoscerti anche questo 40 ortaggi noi quanti ortaggi c'è 200 voglia dai iniziamo a corteggiare giusto pure con questo dai magari non corteggiamo però iniziamo a corteggiare giusto va bene ok torna alla mappa del qua quindi l'obiettivo questo l'abbiamo fatto che era quello di inviare i messaggeri e quant'altro e ci prendiamo bel 50 monete che insomma non fanno poi male velocizzo un attimo al tempo qui perché ci abbiamo un po di cosette da costruire quindi come obiettivo abbiamo qua la costruzione dei condomini e quant'altro e come ho detto volevo vedere un attimino la situazione da queste parti però prima vorrei che ultimassero la cosa qua qua mancano 20 di pietra non ce l'abbiamo niente secondo me perché questa che fa trasforma la pietra in i mattoni di pietra parte che mo ce l'abbiamo uno solo secondo me da qualche parte comunque poi il mattone lo andiamo ad utilizzare ci vorrebbe scusa qui stiamo facendo trasforma la pietra in rettangoli usando la forza bruta quindi pure questa li trasforma in in mattoni poi allora altri cittadini ok siamo arrivati pure al massimo quindi dobbiamo aspettare che vadano a costruire ste case ci serve più pietra grezza più che altro perché questa appena ce l'hanno lui se le va a prendere ci fa i mattoni e ce ne serve un po più grezza ma qui non abbiamo finito acqua è finita aspetta metti a lavorare un po di gente che sicuro ce l'abbiamo allora qui che dice abbiamo le nostre case ma l'area in cui viviamo avrebbe bisogno di un po di cura speravamo che tu potessi aiutarci a creare un'area che potesse davvero impressionare i nostri vicini che cacchia vuole aumenta la disabilità delle case 3 a 15 me ne occupo io vediamo un attimo che vuole scusa mia che forse col fatto che qua da un attimo priorità al pozzo col fatto che ci manca il pozzo ovviamente la disabilità non è il top però il tempo che lo vanno a costruire comunque ci ha dato la questa mentre la disabilità delle case case 3 a 15 non è molto chiaro da 3 a 15 dovrebbe essere come faccio a sapere lo parte che in modo mi pare che c'era ma valla ricorda come poter vedere qua disabilità ok delle case questo sicuro allora qui è assolutamente poco desiderabile come come zona devo cercare di aumentare un pochettino allora fortificazioni decorazioni cos'è che mi fa aumentare disabilità ah già fatto a posto ha fatto non so cos'era però l'ha fatto a posto così a posto così va bene come non detto chiudi tutto qua non ci serve più niente per il momento allora quindi aspettiamo che finiscono questo pozzo qui ho dato priorità a lui così stiamo a posto ora mi servono queste 10 di pietra noi con la pietra parte quella che è qua giù che io spero che io spero riescano a mandare direttamente ai cittadini ma qua non ci abbiamo casa quindi per il momento niente riescano a portarcela quella però la dovrebbero portare la dovrebbero portare qua giù perché noi qui abbiamo messo la pietra eh sì eh sì questa la stanno già portando va bene aspettiamo un po' vediamo com'è com'è la situazione allora qui c'è qualcosa da scoprire queste rovine e secondo me è proprio il momento del nostro eroe che venga un attimino qua a vedere com'è la situazione il tempo che si avvia ok ci arriva grosso modo di corsa quindi il tempo che arriva là e poi vediamo meglio allora è stata costruita intanto la casa perfetto che fortuna avevo dato priorità al pozzo ma ovviamente mancando il mancando la pietra hanno dato priorità ovviamente ai alle abitazioni e ci stiamo spero che al prossimo blocco di pietre riescano a costruirci il il pozzo allora è arrivato l'eroe qua sì un po' di corsa un po' ampicciato c'è riuscito spezzata un attimo mentre non siamo stati ufficialmente invitati ad aiutare a raccogliere cibo non c'è stato neanche detto di non aiutare forse possiamo semplicemente inviare alcuni fabling e se vengono scoperti facciamo finta di non saperlo ma che cazzo ricompensa vaso di legno pieno di fiori una grande pentola di legno pieno di fiori colorati ah ok posto così ed è finita sta sta cosa coi fiori non lo so da qualche parte è finita penso vabbè riportiamo un attimo qua l'eroe così se ne sta buono e tranquillo a meno che non ce l'ho non ce l'abbiamo in inventario noi quindi allora vediamo un po' chi è disoccupato sosti 3 secondo me servirebbe aumentare un po' la produzione che è qua? puzzoli di desiderio addirittura un puzzo abbandonato e prosciucato questo è un incontro e puoi interagire con esso utilizzando l'eroe e poi dobbiamo pure comprare questo pezzo di terra questi sono deposito di ferro che non sarebbe male perché per il momento noi tiriamo fuori soltanto la pietra quindi iniziare anche con qualche materiale qualche minerale non sarebbe male non sarebbe male quanto ci vorrebbe a costare sto pezzo? così prendiamo pietra posso desiderare 450 minchia vabbè pagamose pure questo dai così dicevo prendiamo pozzo dei desideri rovine e pietre tutto insieme allora prima di tutto eroe lei venga un attimo qua così intanto si avvia noi ci andiamo a costruire anzi prolunghiamo la strada fino a qua qua ci sono pure i famosi maiali che devo ancora capire come sfruttare in verità e queste sono tutte a iuola di fiori insomma tutte cose decorative che sicuramente possono migliorare la nostra il nostro villaggio allora che succede qua è ora di fare una festa quando le cose sono difficili una festa può aiutare tutti a tornare sulla buona strada quando le cose vanno bene la festa è ancora più divertente cos'è da perdere facciamo sta festa 150 monete e tanto pago io dagliate festa allora aspetta un attimo qua ce l'ho ah no il festival ok no pensavo fosse la cosa dei fiori che avevamo sbloccato prima vediamo un po' che c'è qua dentro mentre non siamo a stare ufficialmente vabbè sempre la solita cosa di prima ricompensa carretto di legno un carretto di legno decorativo vabbè pensavo pensavo meglio e vediamo pure questo allora vediamo un po' questo pozzo dei desideri che cosa ci dà cosa ci dà a parte qua l'arsenale ci abbiamo niente di niente ad un occhio inesperto questo pozzo potrebbe essere facilmente ignorato tuttavia sembra che ci sia qualcosa di più sono forse le monete che bilano sul fondo getta al suo interno alcune monete getta 100 monete nel pozzo ottenendo un 50% di possibilità di ricevere una ricompensa getta al suo interno diverse monete getta 200 monete nel pozzo ottenendo 75% getta molte monete uno e getti 300 per avere sicuramente una ricompensa quindi sicuramente con la fortuna che ci abbiamo se ne butto 200 e anche se il 75% di sicuro non funziona però 370 rimandalo un attimino magari ne facciamo qualche altra e poi poi vediamo com'è la situazione più che altro visto che abbiamo portato qui la strada posso già fare un'estrazione qua e no non ce l'ho ancora sbloccato come minerale mercato cava di ferro questo che cacchio è deposito di ferro quindi no mi serve mi serve mi serve mi serve è blocchiata raggiungo un obiettivo paese niente dobbiamo ancora espanderci prima di arrivare qua vabbè è solo diciamo rimandata la questione allora altri due che vengono a lavorare perfetto ma la questione pagnotte e altri cacchi come siamo ce ne abbiamo 16 che insomma non è male però secondo me dovremmo aumentare un po' la produzione qua perché un sacco di farina ce l'abbiamo però visto che è soltanto lui a farla se aumentiamo di persone ci vorrà anche chi crea un po' più di cibo e quindi direi che un altro qua la mettiamo proprio vicino guarda così perché l'ingles è bloccato scusa qui l'ho messa in questo modo ah perché l'ho messa attaccata così quindi la dovrei girare che cacchio però aspetta non mi piace girare così mi conviene spostare questa scusi un attimo la sposto di qua un attimo anche se così aumenta ancora di più il malus della zona che non è diciamo se lo metto di qua è peggio vabbè la metto qua dai e questo lo mettiamo lo mettiamo qua ok quindi tu vai di nuovo a lavorare grazie e aspettiamo che vadano a costruire un altro forno qui abbiamo pure il capono del pescatore che non ho messo poi vediamo effettivamente cosa abbiamo allora per quanto riguarda il cibo le fattorie eccetera secondo me potremmo il grano ce l'abbiamo in abbondanza in verità forse c'è poco mulino che trasforma in farina dovrei mettere un altro mulino eventualmente eventualmente così perfetto poi il tempo che ci metteranno per la costruzione qui le materie le abbiamo viste tutte quindi per il momento ok il pozio per il momento ok i servizi la locanda l'abbiamo piazzata l'abbiamo messa lì dovrebbero essercene due una che dove caspira sta scusa questa l'altra l'abbiamo messa da ste parti o me sbaglio io ah no eccola infatti sta dietro al al granaio quindi ok militare questa non l'abbiamo ancora messa arena delle sperimentazioni questa avrebbe essere interessante fortificazione non ce devo sbloccare decorazioni va bene va bene altre due persone che arrivano perfetto e mentre costruiscono vediamo bene questa cosa dei dei condomini perché l'avevamo già visto l'altra volta però non l'ho vista velocemente insomma quindi diamogli un'occhiata un po' più da vicino allora noi abbiamo questa zona qui che purtroppo è interdetta quindi utilizziamo la parte qui a sinistra della diciamo la clicchiamo e poi completa posizionamento di tutti gli accessori di richiesti quindi qua potrebbe essere grande quanto ci pare tipo così questo è un 5x6 famo un 5x5 però mi sarebbe piaciuto aspetta facciamo un 3x5 così ok col cortiletto al centro vai minchia 558 vabbè prosciugamo tutte tutte le finanze praticamente per fare questo piccoletto dei dei condomini qua vabbè allora vediamo un attimo mercante itinerante comunque il mercante sono pronto a offrirvi le migliori merce e delizie del mio possesso ci trovo volentieri in un equo scambio di risorse o la vostra nobile parola come sempre ho uno sconto speciale del 29% oggi offro 130 degli ortaggi per 172 grano beh gli ortaggi ce ne aveva un boato di grano in verità non ci serve offre 5 nobiltà niente c'è solo grano beh diamo una fracca di ortaggi e piamaci una fracca di grano oh si dai tanto il grano magari quando costruiscono tutto il resto qua potrebbe servirci insomma allora più che altro qui il granaio non è ancora pieno però bisogna stare un attimo presso mi sa che ci servono qualche altro capanno per costruzioni baracca dei costruttori qua perché mi sa che stiamo un po al limite chiamano una qua ok allora vediamo un attimino se c'è del dei posti di lavoro perché qua di disoccupati ma ce n'aviamo veramente un fottio e giusto per la lavorazione questa dov'è ah sta qua giù ma è quella che deve ancora essere ancora essere costruita no l'hanno fatta perché mi dava il lucchetto scusa perché mi dava il lucchetto ah è chiuso perché non c'è nessuno ecco perché mi dà il lucchetto giustamente giustamente e assegna il lavoratore vai ok intanto sono entrati qualche qualche soldino delle tasse e qui congeta un attimo perché non c'ho non c'ho posto aspetta un attimo che stavano un po' ampicciati allora qui per la costruzione mi servono ah già fatto tutto ora non so se questo necessita di altro materiale oppure sicuro però non si ok ok quindi serve una fracca di materiale praticamente oltre al costo smisurato serve pure una fracca di materiale un po' bruttino però così beh ormai l'ho piazzato il condominio è il fulco del livello abitativo successivo la casa in città qui vivono i popolani le case in città richiedono un responsabile del condominio per funzionare amministratore un responsabile del condominio si assicurerà che le case in città siano rifornite di cibo e di qualsiasi altra risorsa necessaria per mantenere il febling felici ok spero che ci venga ci venga in automatico poi il fondamento del condominio scusa che quindi posso aumentare per fare che semplice proprietà una semplice proprietà di pietra a motivo scusa se io lo faccio tutto intorno che cambia ah niente così sono un abbellimento del del condominio praticamente vabbè devo vedere bene in verità come poi eventualmente si attaccano tra di loro perché l'area questa è già occupata però mi dà queste freccette che non ho ben capito che so non ho ben capito che so perché se io piazzo questa poi non posso andare oltre vabbè è un po' un po' strana sta situazione e niente i popolani non vengono perché me sa che ancora non abbiamo costruito un po' tutto qua abbiamo ancora aspettato forse per via del livello della nostra città che oddio città un parolone insomma del villaggio che abbiamo che ancora non attira delle nuove persone non so se tenere la verità sta striscia che ho fatto in più però non sarebbe male a parte che qui ora mi so mi so fregato sto pezzo magari mi converrà a mettere qualcos'altro più che altro non so se necessita anche del pozzo credo di sì credo di sì quindi io quasi quasi questo lo piazzo qua dietro così sta a posto poi vediamo un attimo la questione dei fognature e quant'altro quando effettivamente ne abbiamo la necessità quindi si ci metterà un boato penso a costruire tutta sta roba vediamo se hanno fatto altro questo l'hanno fatto quindi mettiamo a lavorare altri due e forno a legna anche l'hanno fatto perfetto vai il mulino pure vai e il condominio che beh non c'è i popolani devo aspettare che arrivino purtroppo non ci posso fare niente da sto punto di vista infatti qua necessita di acqua quindi dai un attimo priorità al puzzo che c'è ci serve dieci di pietra ma ce ne abbiamo tre sperando che piano piano arrivi questa dove va scusa ah questo è quello che si va a prendere la roba per qua eh minchia troppo dovevi far veloce il viaggio cioè lontano anche oltre che a farlo velocemente allora questi la pietra intanto se la so portata qua ottimo e arco che cosa ho costruito ah ok sta facendo l'arco del cortile perfetto oh ci abbiamo due popolani grandi ottimo i primi che arrivano però se mi fate magari prima qua sarebbe meglio visto che questi poi hanno bisogno di acqua allora i vostri fabri sembrano piuttosto felici di vivere qui sono fortunato di avere intorno qualcuno come te senti un po' ho sentito parlare di un consulente finanziario particolarmente avido nel regno forse dovremmo provare a prendere in pressione un po' del suo denaro che senso giocare d'anticipo spendi 5 nobiltà che ce ne abbiamo 25 cambia di 200 monete pure ne spendiamo 10 e ce ne danno 500 50% di possibilità di ricevere un premio spendiamo questi 10 o mai le cose in grande se le dobbiamo fare le fatte bene quindi mi sa che ci hanno dato i soldi e basta vabbè aspettiamo allora la casa qui l'hanno fatta da che mi servono mi serve il pozzo sono questi ci hanno problemi qua manca un negozio cittadino cazzo sta iniziando a nevichare l'inverno vabbè dai dei ortaggi ce ne abbiamo un casino tecnicamente la 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 farina ce l'abbiamo ancora i vostri fami sembrano piuttosto felici a che ora a quella di prima scusi no in arte dieci no stavolta ne spendiamo cinque ok e basta perché se no allora queste stanno producendo ma sa che me ne serve in altro dei mulino perché non stiamo non stiamo appresso con quanta con quanta con quanto grano abbiamo e allora piazza in alto tanto di persone eventualmente che vengono a lavorare ce l'abbiamo non ci abbiamo la pietra necessaria ora in verità spero che vengano a finire sto sto pozzo qua quanto prima magari ora inizieranno a prendersi ovviamente le il carbone guarda quanti vanno a piassolo tutti praticamente quindi qua spero che ce la faccio non fretta insomma questa pure è un'altra cosa che devo tenere sott'occhio chiaro hanno svuotato ti eh hanno preso un sacco di carbone speriamo c'è basti speriamo c'è basti e allora questo è il guardia boschi va bene questi stanno abbattendo gli alberi e va bene secondo me ce ne servirebbe pure qualcun altro che abbatta gli alberi per un po' più di velocità gli alberi li posiamo qua ok altri due ottimo sì 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 vieni vieni devo mettere altri due lavoratori anche però anche qualche altra casa normale dai che manca sette di pietra per sto cavolo di pozzo dai dannazione che sono questi poi non so non so contenti giustamente ah c'hanno infatti disirabilità fogne e pozzo cittadino è il pozzo questo è il pozzo semplice e allora aspetta un attimo e ti pausa possiamo farlo quello cittadino noi pozzo sì allora famo questo invece che questo qua visto che ne hanno necessità elimina un attimo lo so però non non ci serve a parte questo mi sembra no forse hanno lo stesso range ma mi sa che è un filino più più largo vabbè famo questo e sicuramente abbiamo oddio non tantissimo le assi sì no le assi è un bel niente non ci abbiamo né assi né né lastre di pietra qua ma scusa ma le assi chi le fa la segheria sicuro quante segheria c'avemo star magazzino e allora c'è qualcosa che mi dice dove sta la segheria campo di legname questa qua segheria ok la penso che ce ne sia un'altra sì ce ne sono due qua ok questo però non sta a lavorare un bel niente non si produce signori perché non si produce perché non sta a lavorare questo dove cazzo stai lavora a un ritmo confortevole insomma se ne sta andando a casa se ne sta andando c'è da aumentare il problema è sempre la solita cosa che il legno lo utilizziamo sia per il carbone ovviamente che per fare le assi quindi è qualcosa che va via anche molto molto velocemente a parte che adesso non le stanno proprio usare famone un altro va no campo di legno questa qui per le assi la famo qua cerchiamo di tenerci sto quadrato al massimo fin qua giù di roba che non non piace quindi che ci abbasserà la 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 desiderabilità del del terreno e il resto lo mettiamo qua a sinistra quindi i condomini e poi magari progrediamo anche un po' più in basso allora altri due visitatori perfetto questo che altro vuole i tempi sono stati duri abbiamo fatto del nostro meglio per mettere cibo sulla tavola ma siamo senza opzioni perché abbiamo sentito parlare del tuo ah ok sono loro che chiedono a noi a noi e abbiamo deciso di mettere da parte il nostro orgoglio ok che ci dai 5 ortaggi e 5 cioè 50 ortaggi 5 pane diciamo 10 nobiltà vabbè dai ce l'abbiamo aiutiamo la gente allora quindi qua la pietra sempre serve siamo sempre un po' a corto di di pietra più che altro i costruttori devono far prima che arrivano quelli che la trasformano in mattoni praticamente altrimenti non fanno un tempo pure qua ancora stiamo un po' bloccati perché ci servono le assi e le assi il tizzo le staffa sì perfetto il problema è che servono una fracca di assi pure qua mamma mia metti un attimo priorità qua e metti anche priorità qui visto che qua ce ne mancano poche dai 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 aspettare velocizzo ancora un po' così fanno magari un pochettino più in fretta carbone terminato quindi dobbiamo mettere un'altra un altro che ce lo produce come l'avevo girato così ok così li mettiamo tutti in uno stesso verso perlomeno spero manchi poco per la fine dell'inverno perché siamo stati un attimo non picciati e ci serve anche della legna in più assolutamente quasi quasi il problema è che qua non c'è molti alberi lo piazziamo qua ce ne sono tanti già fatti in verità il problema è che il guardaboschi che c'è ma qua è finito l'inverno forse ce l'abbiamo fatta anche con con il cibo è andata abbastanza bene con con il carbone un po' così allora il guardaboschi pianta nove alberi devo avere dopo che uno è stato abbattuto ok quindi non ne va a piantare uno da nulla cioè se io prendo uno di questi alberi qua non penso che li vanno poi ad abbatte questi sono più decorativi sono alberi si aggiunge bellezza all'aria ma non non li fa abbattere quindi non conviene tutti questi soldi in entrata sicuramente ne puoi dare un po' il tuo vecchio amico ma che vuoi allora mettiamolo qui un'altra cosa per il legno perché non va a piantare alberi a prescindere li pianta dopo che sono stati torti e quindi se ce ne stanno pochi ne metterà pochi ok costruisci allora ah qui hanno finito no non c'era pure il pozzo tra le cose che dovevo fa vabbè riceviamo questi 50 ori mi ricordavo che mancava il pozzo cittadino per quello abbiamo switchato da quello normale a quello cittadino ma a quanto pare va bene pure così allora il paesaggio urbano qui abbiamo costruisce un pozzo cittadino ok costruisce una fognatura anche quella è una cosa che dobbiamo fare perché secondo me disabilità uguale cioè hanno bisogno di uno e dell'altro quindi oltre a quello c'è da favore quest'altro ma questa al centro non la possiamo mettere eh mo speriamo che arrivi e non prende pure quell'altro se no abbiamo sbagliato a metterli così in lungo annaccia la trota non ci arrivano così se no da quest'altra parte devo mettere una strada che passi qui e la ci devo mettere la vediamo un attimo la fogna ma sto cartello va costruito spero e rimane sto cartello così in mezzo allora otto addirittura però non abbiamo non abbiamo case aspetta un attimo rimane un attimo così metti che riescano a terminarla in tempo o se no li congediamo dai per il momento no devo capire bene sta cosa perché materiali di pietra mattoni servono fornisce sì è un pezzo che c'è da fa no aspetta no via via toglila questa sì sarà da fa da aspettare i mattoni di pietra ok quindi siamo allo step che ci servono veramente una fracca di mattoni di pietra qui posso mettere a lavorare gente perfetto e anche il guardaboschi lo metto qua ok così ci ci dovrebbe entrare un po' più di legna che altro vuole i dalle legne riferiscono che uno dei loro ha accidentalmente calpestato una fata la piccola creatura era più spaventata che ferita ma sembra che abbia risvegliato qualcosa nella forestra non preoccuparti manderò un po' di aiuto vai stiamo a 10 di di nobiltà qua eh bisogna prestare attenzione però secondo me questi li avevo piazzati un po' male li avrei dovuti mettere per il lungo cioè per verticale più che orizzontale e soprattutto un po' più vicino alla 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 strada perché o sto pozzo lo togliamo da qua aspetta un attimo tanto ancora non hanno portato nulla io mi tirerei un'altra strada qua cerò mai sbaglio facilmente ok e il pozzo cioè la fontana praticamente la potremmo mettere o la mettiamo di qua però di qua ci potevo mettere in maniera speculare un altro condomino eventualmente e quindi questa la dovemmo piazzare tipo qua o qua la piazzo qua così alle brutte se metto le altre case qui a parte qua c'è il pozzo posso eventualmente vabbè mettiamolo qua dai ok e traguardo raggiunto è stato raggiunto un nuovo traguardo demografico complimenti ora possiamo chiamarci un paese da ora in poi la tua famiglia si aspetta vagamente di corrente 85 monete quindi ne abbiamo ricevuto altre 400 abbiamo sboccatto ospedale spettacole delle marionette pollaio grande porcì cava di ferro e fabbro ottimo abbiamo sboccatto veramente un fottio di roba quindi aspettate un attimo però aspettate un attimo però questo lo tolgo un attimo so che non trovo pace perché sta roba qua la voglio toglie perché va bene sta cosa a destra e a sinistra che fa un po' di divisorio e la strada la facciamo però un filino più vicina così ok e il pozzo lo piazziamo nuovamente qua ma sennò io qua non ho idea di che caspita metterci se lo piazzo qua qui ci voglio mettere l'altro condominio e lo piazziamo la piazziamo qua poi vediamo dai per il momento lo piazziamo qua dai un attimo priorità tagliamo la pausa perché magari qua possiamo metterci qualcosina che entri qua dentro insomma vediamo ah allora non c'è fatta la fognatura perfetto qui e quindi l'altra la facciamo in maniera appunto speculare da quest'altra parte quindi dovremmo prendere sia da una sia dall'altra zona quanto riguarda l'acqua devono pazientare un attimo che che arrivano le i mattoni di pietra e le le assi intanto qua ci ha sbloccato la carne di maiale il ferro e l'armamento ci ha sbloccato ci ha dato visibilità prima non c'erano o si no mi sa di no che non me ne so accorto sicuramente no va bene allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui visto che abbiamo sbloccato alcune cose ma lo vediamo nel prossimo appuntamento potremmo ora finalmente mettere una cava qui per tirar fuori questo questo ferro che abbiamo qua e quindi possiamo ora iniziare insomma a fare qualcosina peccato che ho messo sta strada qua che finisce proprio con la cava di legno cioè di pietra se l'avessi messa qua sopra potevo collegarla a quest'altra cioè ce la posso collegare uguale non è che mi vieta però mi è da un po' brutta come cosa vabbè fammola un attimo così poi poi se vede insomma allora qui hanno ricominciato a piantare perfetto il grano cioè il mulino qui ora funziona qui va bene qui c'è il tizio che lavora e ok e qua uguale perfetto qui possiamo mettere il tizio che fa le assi vediamo un attimo qui facciamo prima e negozio cittadino negozio cittadino scusa l'ha messo qua in mezzo casa cittadina poi c'è forse il negozio cittadino scusa la carbonaia è quella che abbiamo messo prima ok però non vorrei metterci non vorrei che ci sto a mettere il popolano popolano tecnicamente ma sa che va qua al negozio infatti penso che lo posso mettere anche nella carbonaia però insomma tenemoselo per qualche altro lavoretto ecco gestione dei lavoratori qua metticene un altro perfetto pensavo che ci fosse qualcosa da mettere pure qua soprattutto il negozio qua di il negozio cittadino mi mancava c'è tutto qua in mezzo tutto un gruppetto di di cose ok perfetto allora che altro vogliono qua oh piccolo caro come sei meraviglioso ingenuo meravigliamente ingenuo perché dovresti provare felicità quando io non ho potuto sono stanca di vedere la tua passione e il tuo ottimismo vediamo come i tuoi fabling gestiscono questa piccola sorpresa che ne dici la strega malvagia che cacchio vuoi i fabling possono gestirlo la maledizione della strega la strega ha trasformato tutti i tuoi fabling in scheletri ma come mentre questo effetto è presente la fame dei fabling era doppiata Marco Giuda la strega è impazzita spendi 5 nobiltà per mandare la strega per la sua strada eh si ci spende come no no a parte che vabbè il cibo non ci mancava però nel dubbio meglio evitare meglio evitare allora dai direi che ci salutiamo qui abbiamo già messo in moto insomma il condomino e quant'altro io come sempre vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao